Ciao, bentornato sul mio canale e benvenuto a questo nuovo video. Oggi ci dedichiamo alla fortificazione dei nostri glutei e esploreremo diverse posizioni del corpo usando la forza e la gravità e il peso corporeo per andare a lavorare tutta la muscolatura del gluteo. Lascia un like se il video ti piace e ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime novità. Direi che siamo pronti per partire. Comincia a sdraiarti a pancia in su. Non mettere spessore sotto la testa, sei abituato a metterli qui. Piedi bene paralleli tra di loro, abbastanza vicino ai tuoi glutei. Trova il neutro del tuo bacino, inspira ed espira. Retroversione, porta i glutei verso l'alto, rimani in appoggio tra le tue scapole. Inspira, tienilo ed espira una vertebra dopo l'altra, ritorna giù e trova il neutro. In ed es articola vertebra dopo vertebra per salire. Inspira, rimani un secondo ed espira. Articola di nuovo dall'alto verso il basso e ritrova il neutro del tuo bacino. In prepara, espira di nuovo. Premi su tutta la pianta del piede quando vai su. Tienilo inspirando ed es una vertebra dopo l'altra. Scendi, trova ogni volta il tuo neutro. E ancora retroversione, attiva i glutei. Inspira, rimani ed es articola bene la colonna per scendere. Tiri la cervicale allungata quando torni verso il basso e ancora una volta srotola. Pressione su tutta la pianta del piede. In, rimani ed espira una vertebra dopo l'altra, ritorna giù. Ora passiamo a hip lift, solleva il bacino senza passare dalla retroversione e torna. Quando scendi, pensa di portare il neutro diretto verso il pavimento senza però appoggiarti, in modo da sentire che le gambe continuano a lavorare. Espira mentre sali. Inspira, scendi. Quando sali, rimani sempre in appoggio sulle scapole, non andare troppo verso il collo. Inspira e fuori l'aria. Sali, inspira, scendi. Avanti, sali e scendi. Ancora premi i glutei verso l'alto e ancora fuori l'aria. Ora, incrocia la gamba destra facendo figure four, un quattro. E solleva di nuovo il tuo bacino. Due. E ritorna. Ancora tre. Tieni il ginocchio destro bene aperto verso l'esterno e cerca di tenerele anche bene allineate tra di loro mentre sali e scendi. Sali e scendi. Avanti, su. E ritorna. E ancora spingi bene quel gluteo sinistro in modo che il bacino salga verso il soffitto. E ora torna in parallelo, gamba a tavolino, allunga e piega. Fuori l'aria, stendi. Due. Inspira, torna, allunga. Tre. E ritorna. Avanti ancora. Quattro. E ritorna. Allunga cinque. E ritorna. E riporta giù il piede. Sistema bene le tue anche. E ritorna direttamente con il neutro in appoggio. Prepara l'altra gamba. Sinistra incrociata. Solleva il bacino. Uno. E ritorna direttamente al neutro. Ancora sali due. E ritorna. Avanti. Tre. Apri bene quel ginocchio sinistro. E cerca di tenere le tue anche bene allineate tra di loro. E ancora. Premi bene con quel gluteo destro. Senti la pianta del piede bene premuta sul tuo mat. Sali. E scendi. Ancora sali. Porta la gamba sinistra a tavolino. Inspira ed espira. Allunga la pare dell'altra. Uno. Cerca di allineare le tue ginocchia quando stendi la gamba sinistra. Due. E ritorna. Avanti. Tre. E ritorna. Ancora. Allunga bene. Quattro. Stendi fino alla punta del piede. Avanti. Cinque. Ritorna. Appoggia il piede. Sistema un secondo. Il bacino sali ancora un momento. E ritorna giù direttamente al tuo neutro. Tira un secondo le gambe verso il petto. Dondola un filo. Destra a sinistra. E ora scivola sul tuo fianco sinistro. Pronti per lavorare la gamba destra. Il gluteo destro. Rimani in appoggio sul gomito sinistro. Scarica bene le spalle. Sostieni il tuo busto. Solleva i piedi. Inspira. Prepara ed espira. Clem. Apri. E chiudi. Pensa di tenere il bacino bene fermo qui. Le tue ginocchia si separano. Il ginocchio destro va bene verso l'alto. Fai attenzione a non muovere il bacino indietro. Non scivolare. Sostieni il tuo busto. Apri. Mantieni sempre un contatto tra le punte dei tuoi piedi. E senti bene quel gluteo destro attivarsi ogni volta che apri il tuo ginocchio verso l'alto. Andiamo a fare dei piccoli molleggi. 3 4 5 Ancora 6 Respira liberamente. 7 Avanti. 8 9 10 Torna. Chiudi. Riappoggia i piedi. Scendi un pochino di più con la testa appoggiata sulla mano di sinistra. Allunga la gamba destra. La gamba sinistra rimane leggermente piegata. Inspira. Sali. E scendi. 2 E ritorna. L'importante è che la tua gamba sia ben allineata con il tuo bacino. E che il lavoro tu lo senti nella parte esterna della tua gamba. Nella parte laterale del gluteo e della coscia. Non nel tuo quadricipide. E ancora. Sali. E sali. Tieni la gamba ben estesa. Allunga fino alla punta del piede. E ora fai... Porta la gamba più avanti. Gira il tallone verso il soffitto. E fai dei piccoli pulses. Dei piccoli molleggi verso l'alto. Quindi la tua gamba si è spostata leggermente più avanti del tuo bacino. E questo movimento dovrebbe farsi sentire un meraviglioso bruciore nel tuo gluteo destro. Andiamo avanti per una ventina di volte qui. Una sequenza leggermente più lunga. Sempre con la sensazione che sia il tallone a spingere verso il soffitto o la punta del piede guarda verso il pavimento. Ottimo. Ritorna. E dati un piccolo massaggio a questo gluteo che poi strecciamo nella parte finale del nostro allenamento. Pronti per fare tutto dalla parte opposta. Il primo... La prima sequenza la facciamo con i gomiti appoggiati. Quindi sostieni bene il tuo busto. Solleva leggermente i tuoi piedi. Inspira ed espira. Apri. Una. E ritorna. Ancora apri. Due. Bacino bene fermo. Sostieni il busto. Tre. E ritorna. Ancora apri. Quattro. E ritorna. Avanti. Cinque. E ritorna. Ancora apri il più possibile ogni volta. E ancora allunga. Sostieni bene il tuo fianco sinistro appoggiato sul pavimento. Allunga. E ritorna. Apri. E molleggia. Uno. Due. Tre. Quattro. Ancora cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Appoggia un ginocchio sull'altro. Appoggia i piedi. Sistema la posizione della tua testa. Leggermente più in basso. Allunga la tua gamba sinistra. Stendila bene in allineamento. Solleva. E ritorna senza appoggiare. Due. Senti quella gamba attiva fino alla punta del piede. Tira la punta. Crampi permettendo. E cerca di sentire il lavoro sulla parte laterale della tua coscia e del tuo gluteo. E ancora. Sali. Scendi. Sali. Scendi. Sali. Fermati su. Tienilo qui. Allunga bene quella gamba. Ora porta il tuo piede leggermente più avanti. Gira la punta del piede verso il basso e il talone su. E comincia con i molleggi. Cerca di tenere il bacino bene e stabile. Il busto rilassato. Non creare tensione sulle spalle e sul collo. E respira liberamente durante questi molleggi. Anche qui questa serie è leggermente più lunga di molleggi. Resisti. Ancora qualche ripetizione verso l'alto. Sempre con quella punta rivolta verso il basso. Il talone che va su. Piega il ginocchio. E anche qui massaggia delicatamente quel gluteo sinistro che ha appena lavorato. Ottimo lavoro. Ci spostiamo in quadrupedia. Mani. Siamo in una quadrupedia modificata. Quindi siamo in appoggio sui nostri gomiti. Solleva la tua gamba destra. Una volta apri. Una volta vai indietro. E apri verso l'esterno. Riprendiamo un pochino il concetto del clam. E poi porta la gamba indietro. Attiva bene il gluteo. Tieni la gamba piegata sempre a tavolino. Angoli di 90 gradi. Sali. E scendi. E ancora apri. Chiudi. Sali. E scendi. E ancora apri. Chiudi. Sali. Fermati su piede a martello. Molleggia verso l'alto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ancora uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E ritorna giù. Scarica bene le spalle. Sistema la posizione delle tue braccia. E di nuovo sinistra. Apri. Torna. Sali dietro. E ritorna. Rotazione esterna una volta. Pensa di portare il ginocchio verso l'esterno. E poi porta il ginocchio verso l'alto. Ginocchio in apertura. Tieni il bacino più possibile stabile. E vai bene verso l'alto. E ritorna. E ancora una volta. Apri. Chiudi. Una volta. Sali. E scendi. E ancora. Apri. Chiudi. Sali. Fermati su piede a martello. Cominciamo. Leggi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E avanti ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. e ritorna giù. Bene. Ottimo lavoro anche qui. Prendi un attimo di scarico indietro verso i tuoi talloni. E poi ci spostiamo a pancia in giù questa volta. Appoggia la fronte sopra le tue mani. Allunga bene le tue gambe. Tiene le leggermente separate. Ci concentriamo sulla gamba destra. Sollevala. E ritorna giù. Sempre a destra. Fa in modo che il movimento parta dal tuo femore. Dall'anca. E cerca di sentire che il tuo bacino è stabile. Non stai creando tensione sulla zona lombare. Mentre fai questo sollevamento della tua gamba. Tieni la lunga. Altiva bene il gluteo. La coscia. Anche la punta del piede. E ancora fuori. L'aria. Sali. E ritorna. E sinistra. Fuori l'aria. Vai su. Tieni la gamba bene distesa. E scendi. Ancora. Sali. Cerca di non creare tensione sulla zona alta del tuo corpo. Spalle rilassate. Cervicale rilassata. E allunga bene quella tua gamba sinistra. Ancora fuori l'aria mentre sali. E ritorna. Ancora sali. E scendi. Ora cerchiamo di sollevare entrambe le gambe insieme. E inspira. Ritorna. Anche qui fai bene attenzione che il movimento non vada a creare tensione sulla zona lombare. E fuori l'aria. E le gambe lunghe. Inspira. Riappoggia. E avanti ancora fuori l'aria. Sali. E scendi delicatamente. E ancora attiva bene i tuoi glutei. E ritorna giù. Ora separa leggermente di più le gambe. Piegale. Unisci i talloni. I piedi su una martello. Heel squeeze. Tieni i glutei premuti. I talloni premuti uno verso l'altro. Senza fare molleggi. E rilassa un secondo. Tieni questa contrazione. Stringi i talloni. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E rilassa un secondo. E ancora premi. E tienilo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E rilassa delicatamente. Ancora premi e tieni. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E rilassa. E ancora. Tieni premuto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Rilassa. Allunga. Spingiti sulle mani e sulle ginocchia. E raggiungi il shell stretch indietro. Divarca leggermente le gambe. Fai in modo che la tua fronte vada direttamente verso il tuo tappetino. Prenditi un paio di respiri qui e poi srotoli indietro. Da qui andiamo a fare la transizione in piedi. Quindi srotola bene verso l'alto. Recupera una posizione dritta. I piedi sono bene paralleli tra di loro. Portali un pochino più distanti ai bordi del tuo tappetino. E divarica leggermente le punte dei piedi. Squat. Uno. E ritorna. Le gambe sono leggermente in rotazione esterna. Quindi anziché fare uno squat semplice. Andiamo a fare una sorta di sumo squat. In cui le tue ginocchia guardano verso gli angoli. Questo va un pochino più a fortificare come target muscolare proprio i nostri glutei. La schiena è piatta quando scendi. Unisci i palmi delle mani quando vai giù. E allunga. Stringi i glutei anche quando sali. E scendi. Attiva bene il tuo core. Attiva gli addominali mentre vai giù. E ancora scendi. E riallunga bene le gambe. E ancora scendi. E risali. Ebbene allungo verso il soffitto. Ancora scendi. E fermati per i molleggi. Molleggia due. Tre. Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci E allunga bene le gambe. Facciamo anche una piccola sequenza di plie. Divarica leggermente le tue gambe. Ruotale sempre verso l'esterno. Mani sui fianchi. Scendi in plie. E ritorna su. E ancora scendi. Due. E risali. Ancora scendi. Tre. Tieni i piedi bene appoggiati sul pavimento. E divarica bene le tue ginocchia. Penso di mandarle verso la parete dietro di te. Ancora scendi. E risali. E avanti scendi. E ritorna. Ancora. Tieni la schiena il più possibile dritta. Se puoi. Inclina il meno possibile in avanti. E di nuovo scendi. Rimani. Bene. Andiamo anche a fare anche qui i nostri molleggi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Allunga. E richiamo i piedi sotto di te. Ci andiamo a sdraiare. Andiamo finalmente a fare un po' di stretching per i nostri glutei. Puoi mettere uno spessore sotto la testa se preferisci. Figure four. Quindi. Caviglia destra su ginocchio sinistro. Tira le ginocchia verso di te. E aggancia la parte posteriore della coscia o il ginocchio sinistro. E tira. Ogni volta che espiri. Tira bene le gambe verso di te. Cerca l'allungo nel tuo gluteo destro. Ogni volta che inspiri. Rilassa delicatamente. La tua schiena è completamente incollata sul pavimento. Senti la cervicale allungata. Il tiro parte delle tue braccia. Le spalle e il collo sono rilassati. Ora andiamo a fare quello che chiamiamo Bristle Stretch. Quindi incrocia la ginocchio destro sopra il sinistro. E tira verso di te. Mentre tiri le ginocchia al petto cerca di separare i tuoi piedi tra di loro. Di tirarli verso l'esterno. Non schiacciare troppo verso il petto. Ma cerca di portare le gambe proprio verso l'esterno. Cambiamo lato. Caviglia sinistra su ginocchio destro. Incrocia le mani sotto il ginocchio destro. E tira delicatamente al petto. Anche qui ripeti questa sequenza di inspiro. Lascia andare leggermente ed espiro. Tiro al petto. Cerca l'allungo nel tuo gluteo sinistro. Inspira qui ed espira. Tira il petto. Inspira. E adesso ascolta sempre quello che ti dice il tuo corpo. Bristle. Quindi afferra non i piedi le caviglie. E tira delicatamente verso il petto e verso l'esterno. Se volessi portare i piedi lontani uno dall'altro. Se questo stretching è troppo intenso, torna a quello precedente o rilassati per qualche secondo. Sciogli in ogni caso la posizione. Vieni a sederti. Ritrova una posizione comoda. Gamba destra allungata. Schiena bene dritta. Il braccio sinistro carica verso il soffitto. Fletti la colonna. Qui cerchiamo un allungo del lato sinistro e dell'adduttore della gamba destra. Ritorna al centro. Apri il braccio. E di nuovo sali verso la testa e allunga. Premi bene la tua gamba destra sul pavimento. E facciamola ancora una volta da questa parte. Fuori la riallunga. Sempre guardando verso di me. Torna al centro. Cambia gamba. Allunga bene la tua sinistra. Le anche sono rimaste voltate da questa parte. Il braccio destro carica verso il soffitto. Inspira ed espira. Allunga. Lascia che anche la cervicale segua la curva della torace. E di nuovo allunga. Premi bene col ginocchio sinistro sul pavimento. E ritorna. E facciamone ancora uno. Allunga. E ritorna. Richiama entrambe le gambe sotto di te. Ritrova quella verticale della tua schiena. Ottimo lavoro. Grazie mille per essere stato con me. Ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime. Novità. Ti mando un grande bacio. E ci vediamo alla prossima. A prestissimo.